Il doppio chilometro è per gente per lo più già conosciuta, sono in 8 orvia, 1 dove c'è Musica Leone, Gaetano Di Nardo, 2 De Mitra Galla, Biagio De Vilacqua, 3 Devil Opie, Marco De Vivo, 4 Dallas Spava, Ferdinando Minopoli, 5 Dark Horse, Vincenzo D'Alessandro, 6 Derrick FKS Mario Minopoli, 7 Diego Petral, Giorgio D'Alessandro, 8 Day Love Deepa, Jenny Riccio Si ritrae tutta l'alla esterna, in pratica dal 5 all'8 rinunciano al lancio Stacco della macchina, andati, si mette sulle gambe, ora Diego Petral, mentre sbaglia Demetra Galli, Galoppo anche Dallas Spava, Diego Petral prende l'anda all'imbocco della prima piegata in netta evidenza nei confronti di Devil Opie, quindi lungo i virilli dove c'è Musica Leone per linee esterne Derrick FKS che punta in avanti, dietro ai primi 4 c'è Dark Horse Insiste Derrick FKS che va a prendere contatto con Diego Petral, quale però ha messo assieme un primo mezzo giro sollecito, 39 400 metri iniziali, così che Derrick FKS si ritrae o perlomeno cerca di farlo, operazione negata dall'inserimento di dove c'è Musica Leone anche se poi l'operazione in qualche modo riesce, 47 e mezzo i 600 metri iniziali, ha tirato una brusca frenata al cronometro, Diego Petral all'avanguardia, 16 e mezzo l'ultimo paletto della piegata di là, tanto che Derrick FKS torna a facciarsi all'esterno all'altezza del Salchi di Devil OP, accenera ora nuovamente Diego Petral che ha percorso il primo chilometro a strappi in 1.18, c'è 30 e mezzo dall'imbocco della piegata sino al palo per il passaggio Derrick FKS che torna nuovamente in maniera convinta a lato del battistrada, sopravanzando Devil OP, 800 per venire a casa, insiste Derrick FKS a lato di Diego Petral che cerca di stare con l'attaccante, Devil OP che in schiena al leader ha preso la via del largo dove c'è Musica Leone, 32 questi 400 metri, segno che la parte più veloce ai gara se l'è probabilmente andata, si avvicinano a fare i spenti dove c'è Musica Leone e Dark Horse quando si è al completamento del Miglio e Derrick FKS sopravanza, Diego Petral braccia e frusta in terza corsia dove c'è Musica Leone, Devil OP che aspetta solo lo spazio per poter respirare che non viene, prova a approfittarne dove c'è Musica Leone che si propone in mezzo alla pista a lato di Diego Petral, Devil OP che ancora lì di dietro senza spazio, accento la conclusione, Diego Petral è attaccato da dove c'è Musica Leone che in fondo passa dove c'è Musica Leone che nel finale viene a vincere nei confronti di Diego Petral al terzo, Devil OP, corsa decisamente da interpretare e ho praticamente 2,40 con 33,7 gli ultimi 400 metri, il secondo giro in pratica se ne è andato in 1,21,8 tutto questo non toglie meriti però dove c'è Musica Leone Gaetano Di Nardo alla terza uscita in carriera c'entra la prima vittoria, Nunzio Squeglia per il signor Savino Caputo al secondo Diego Petral dove c'è Musica Leone Grazie a tutti